Buongiorno a tutti. In questi giorni si guarda con molto interesse a un disegno di legge che tende ad affrontare per l'ennesima volta il problema del precariato nella scuola, proponendo soluzioni si spera definitive al problema. Quello del precariato in effetti è un nodo molto complesso da sciogliere perché da anni imbriglia la scuola italiana. La legge 107 col piano straordinario di assunzioni aveva in qualche modo dato una spinta sull'impulso degli organismi comunitari con l'assunzione di massa di circa 100.000 nuovi docenti, creando però nuovi problemi perché i vecchi messi in ruolo con la saturazione dei posti in seguito all'emissione del ruolo massiccia si sono visti impossibilitati a rientrare nelle sedi di residenza e quindi riunirsi ai propri nuclei familiari. E gli stessi docenti messi in ruolo con la 107 molti di essi sono rimasti lontani centinaia e centinaia di chilometri da casa. Quindi se da un lato si preme per l'immissione ruolo e quindi i precari aspirano alla stabilizzazione dall'altro si creano problemi di contrappeso perché molti docenti già di ruolo non riescono a rientrare. Una risposta in realtà a questo problema non riesce a darla nemmeno la ripartizione di eliquote tra i posti da assegnare alla mobilità e posti da assegnare alle emissioni in ruolo perché solo il 25% delle sedi disponibili vengono destinate alla mobilità territoriale mentre il 50% sono destinate alle nuove assunzioni. Quindi se ancora il problema dei docenti immobilizzati è vivo e trova una difficile soluzione e dall'altro quello dei nuovi immobilizzati è un problema che si presenta. Infatti i vincoli quinquennali previsti per i docenti assunti dalle graduatorie, il concorso di cui ha il DDG 85 2018 messi in ruolo con decorrenza primo settembre 2019 e i nuovi docenti messi in ruolo con decorrenza primo settembre 2020 vedranno un blocco alla mobilità per almeno cinque anni sperando poi di poter partecipare alle procedure di mobilità negli anni successivi e questo quindi creerà una nuova categoria di docenti immobilizzati che si aggiunge ai vecchi immessi in ruolo. La politica dovrà dare una risposta a questi problemi che sono veramente seri e delicati. In questi giorni si parla della possibilità di uno sblocco del vincolo quantomeno per l'assegnazione provvisoria vedremo se si potrà dare un po' di respiro al personale. Arrivederci.